ciao aglio noi siamo i voina ringraziamo rock hall per averci chiamato a fare questo questo live senza filtri il posto più familiare per noi è il furgone in assoluto il nostro mitico giacomino quindi siamo qui e il pezzo si chiama io non ho quel non so che maestre sono libero professionista però nel senso che non faccio un cazzo professionista nel senso sono sempre miglior a farlo sono sorriso sbagliante non sono elegante di naturali non mi viene niente non mi viene niente non mi viene niente faccio foto faccio video un ciclonice per fare il figo e per i timi mi fanno schifo io non vado alle feste io non sono un tipo io non ho quel non so che io non ho io non ho quel non so che io non ho quel 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 non ho Se vuoi sapere la verità non condivido questo concetto di felicità Non me ne frega della celebrità di Instagram La simpatia per me non è una qualità Faccio foto, non faccio video Non ci tonisce per fare il frigo E per i tipi mi fanno schifo Io non vado alle feste, io non sono un tipo Io non ho quel, non so che Io non ho, io non ho quel, non so che Io non ho, io non ho quel, non so che Ma in fondo più male c'è Ma in fondo più male c'è Ma in fondo più male c'è Ma in fondo più male c'è